Ciao amici, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo della dottoressa Carlotta Rossignoli, balzata alle cronache per essersi laureata a 23 anni in medicina e chirurgia in praticamente 5 anni, nonostante il corso di laurea duri 6 anni. È finita sulle prime pagine di tutti i giornali, perché questa ragazza molto giovane ha 23 anni, è riuscita a finire tutti gli esami con tutti i voti, con il massimo dei voti e a laurearsi addirittura prima dei propri compagni, nonostante sia una modella e influencer, infatti il suo profilo Instagram la vede viaggiare per tutto il mondo e partecipa anche a una trasmissione tv per le partite dell'Ellas Verona. Questi titoli hanno destato clamore, perché già un corso di laurea come medicina che è di 6 anni, dove prevede tirocini e lezioni con frequenza obbligatoria, è molto difficile che qualcuno si laurei prima, anche perché ci sono delle regole stringenti. Innanzitutto c'è da dire che qui non si colpevolizza la dottoressa Rossignoli, ma si critica il sistema giornalistico che continua con questi titoli sensazionalistici sui laureati in tempi brevi, causando disagio soprattutto nelle persone che magari hanno difficoltà o ci mettono un po' di più a finire la laurea. E un'altra cosa da criticare è il sistema universitario che permette di accorciare i tempi solamente ad alcune persone e non ad altri, dando praticamente dei privilegi ad alcune persone che non riguardano solamente il merito, perché se riguardasse solamente il merito i laureati in Italia che riescono ad accorciare la laurea sarebbero molti di più, però bisogna avere i permessi dell'università, della segreteria, del rettore e poi in questo caso qui si è ottenuto il benestare anche del ministero dell'università. La dottoressa Rossignoli, dopo aver conseguito il diploma giovanissima e con la media del 10 in praticamente tutte le materie, si è diplomata con 100 lode ed è stata premiata da Sergio Mattarella. Dopo essere stata premiata è riuscita ad entrare a medicina e a frequentare il corso di laurea al San Raffaele di Milano. Il corso, mi sembra che lei abbia avuto l'indirizzo del corso di laurea in medicina in inglese. e questo però ha dettato clamore perché il corso di laurea in medicina e chirurgia si articola in sei anni dove ci sono tirocini propedeutici agli esami e lezioni sempre propedeutiche agli esami con frequenza obbligatoria e il fatto è che se tu non hai finito le lezioni non puoi dare prima l'esame. E questo lo sanno bene i propri colleghi della Rossignoli che infatti hanno scritto all'università chiedendo determinate risposte perché lei ha avuto la possibilità di laurearsi prima nonostante ci siano delle problematiche appunto che riguardano ad esempio i tirocini del sesto anno a cui loro non hanno potuto accedere, i suoi compagni di corso, se non fino all'entrata in vigore del sesto anno accademico. Tutti i giornali hanno definito questa laurea in cinque anni ma in realtà l'università ha specificato che si è laureata al primo semestre del sesto anno, però è passato solamente un mese da quando è iniziato il sesto anno che è iniziato appunto tra settembre e ottobre, quindi appena un mese dopo ha avuto una seduta di laurea a sé per poter concludere il suo percorso. I compagni di corso hanno scritto una lettera dove scrivono letteralmente che vorrebbero sapere come è possibile per lei laurearsi prima di tutti gli altri, perché non ci è stata offerta la stessa opportunità, da dove viene questa eccezione e come è potuto fare più corsi in più anni insieme. Infatti la cosa che stona è fare i corsi, lezioni dei corsi del quinto e del sesto anno contemporaneamente, anche perché avendo determinati orari spesso le lezioni tra un anno e l'altro si sovrappongono. E la frequenza minima obbligatoria è circa, dovrebbe essere tra 73 e 75%, quindi ci sono molte cose che stonano in questa storia. Però come vi ho detto, la parte su cui più mi colpevolezza, non darei la colpa alla dottoressa Rossignoli, ma è più appunto questo sistema tossico universitario. Infatti spesso alla cronaca abbiamo anche di ragazzi universitari che si tolgono la vita perché fingono di dare esami e poi arrivati al giorno della laurea dove si organizza proprio tutta la laurea, non reggono e si tolgono la vita. Quindi anche questo è una grossa problematica, per cui rifletterei più su questo. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima.